Il rimpasto non è finito qui. Lo ha fatto capire, anzi lo ha detto apertamente, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, dopo aver firmato i decreti di nomina dei suoi due nuovi assessori, Marco Zambuto e Tony Scilla, entrambi in quota Forza Italia, che hanno preso il posto rispettivamente di Bernadette Grasso e di Edi Bandiera. Anche per Musumeci è doveroso che il governo regionale rispetti la legge sulla quota Forza e chiede agli alleati di nominare, nel più breve tempo possibile, una donna, trovando la quadra tra di loro. Di fatto, il governatore ha dato ragione a chi, in questi giorni, tra opposizioni e associazioni, si era lamentato per un esecutivo tutto al maschile. L'assenza di rappresentanza femminile nell'aggiunta di governo, dichiara Musumeci, è e deve essere soltanto momentanea. Come è noto, ho chiesto alle forze politiche della coalizione di far sì che la parità di genere sia non solo predicata, ma anche praticata. Mi attendo quindi già a breve atti e scelte conseguenziali. Più chiaro di così. Il problema potrebbe restare tutto interno a Forza Italia. Per la serie, voi avete creato questo disagio e voi lo risolvete. Escluso ovviamente gli appena nominati Zambuto e Scilla, sembra improbabile però che il Partito Azzurro possa rinunciare facilmente ad uno tra Marco Falcone e Gaetano Armao, due pezzi da novanta in seno al partito e al governo, con in mano deleghe delicate. Stando ai rumors, il leader Gianfranco Micicchè è pronto a chiedere questo sacrificio agli altri alleati di governo. Sostanzialmente avrebbe detto loro, per tre anni la quota rosa l'ha garantita Forza Italia, adesso tocca a voi. Ma la risposta che è arrivata dagli alleati all'indirizzo degli azzurri non sembra conciliante. La frittata l'avete fatta voi, pensateci voi. Occorre considerare infine che una donna da indicare al momento non sembra averla nessuno, né gli autonomisti, né i centristi, né i fratelli d'Italia. In mezzo ci sono non soltanto gli equilibri di governo e di maggioranza, ma anche la prossima campagna elettorale, posto che manca un anno e mezzo circa alle elezioni regionali e Musumeci non è per niente sicuro della sua ricantillatura.